Mai più voterò PD. Queste sono parole dell'attore Alessandro Gassman dopo aver saputo che l'eurodeputato Dino Giarrusso aveva scelto di entrare nel Partito Democratico. Gassman ha così continuato, aperte virgolette, il Partito è riempito di individui che non sono richiesti e nulla hanno a che fare con l'idea iniziale, chiuse virgolette, e poi, partito lontano dai problemi reali e dal futuro delle nuove generazioni, andassero definitivamente a fare in puntine e puntine, chiuse virgolette, parole decisamente tranchant, solo dopo la reazione di alcuni esponenti, fra i quali Giorgio Gori, che hanno accusato il Partito di eccessiva propensione all'inclusività, altri, Piero Fassino e Stefano Bonaccini, hanno chiesto almeno le scuse di Giarrusso per le cattiverie espresse dall'ex Iena contro il Partito e i suoi esponenti. Una fra tutte queste cattiverie quando Giarrusso si scagliò contro Roberta Pinotti all'epoca del suo Ministero della Difesa. Forse Giarrusso entrerà prima o poi nel PD, sottoponendosi a modi e forme richieste per realizzare una propria convenienza e continuità politica dopo il mandato parlamentare europeo. Lo dice chiaramente Carlo Cottarelli, aperte virgolette, non è il primo Cinque Stelle a farlo. Legittimo cambiare idea, ma ce ne fosse uno che dicesse che si era sbagliato e spiegasse perché ha cambiato idea. Invece cambia un'idea come si cambia poltrona, proprio così, effetto poltrona, chiuse virgolette. Giravoce che anche Luigi Di Maio e altri ex Cinque Stelle potrebbero chiedere di entrare nel PD. Ma non è una questione di scuse che in politica è pratica di chi non è in grado di dare adeguate risposte. Proprio il PD ed il suo segretario uscente, Enrico Letta, hanno appena chiesto le scuse al deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, per aver rivelato l'incontro dei PD, Serracchiani, Verini, Lai e Orlando con Alfredo Cospito in carcere, piuttosto che rispondere a precise contestazioni. Ma questo è un altro argomento. Il problema principale è che, nonostante l'esagerata inclusività per difendersi dalla perdita di voti, il PD è in caduta libera. Chi ha seguito l'esternazione di Gasman su Twitter, avrà preso nota di commenti da parte dell'agente di sinistra su un partito imbarazzante, incapace di dare risposte che mai, negli ultimi dieci anni, abbia fatto una vera politica di sinistra. È sufficiente seguire su Twitter le fasi legate alle primarie del PD laddove si osserva continuità col passato e in tanti chiedono ai quattro candidati un programma concreto per cui votare, che non esiste. Come per incanto, ecco le proposte di Buonaccini, Cuperlo, De Michele Schlein. Da non credere. Si tratta delle medesime proposte fatte da Enrico Letta, che a suo tempo indicava la patrimoniale a favore dei diciottenni, lo Ius Soli, il DDL ZAN, le legalizzazioni, come priorità da realizzare. Tutte proposte che dimostrano la lontananza dal Paese reale e che sono state alla base della scelta dei militanti di abbandonare il partito. Possibile che il nuovo, il cosiddetto nuovo che avanza nel PD, non abbia in mente di ragionare su un disegno concreto da sinistra in tema di economia, lavoro, crescita, istruzione, sanità da mostrare a chi dovrà scegliere il nuovo segretario? Possibile che i quattro candidati non si siano messi a riflettere, con lo scopo di tirare su un progetto identitario, avere una proposta capace di dare una svolta decisiva affinché i vecchi iscritti riconoscono il proprio partito? Sì, è possibile. Perché in questi ultimi mesi, in cui i quattro candidati alla segreteria del PD si sono cimentati nell'attività di contestare a priori il governo, hanno avuto solo il tempo di riprendere il programma di Enrico Letta, che a sua volta aveva memoria di Mario Monti? Non si può che riprendere la locuzione usata da un utente su Twitter. Partito imbarazzante. E Bonaccini si prepara a guidare il nuovo partito democratico.